Ciao, oggi rispondo alla domanda, ma perché Bookness consente veramente di fare più venditi, di ottenere più risultati ai vostri autori rispetto a qualsiasi altro servizio? Beh, la risposta è semplice, ma prima di dartela mi presento, mi chiamo Emanuele Properzi, adoro aiutare professionisti, imprenditori, formatori, coach ed esercenti a migliorare la propria attività attraverso un libro strategico costruito con il best seller framework, grazie a questo libro avrai più vendite, avrai più visibilità e soprattutto avrai maggiore autorevolezza, cambierei quindi la percezione delle persone nei tuoi confronti in positivo per te, quindi per rispondere alla domanda per quale motivo il vostro servizio Bookness consente di ottenere maggiori risultati rispetto a qualsiasi altro tipo di servizio? La risposta che potrei darti la più efficace in assoluto è immediata e semplice, potrebbe chiudere questo video in 10 secondi. Vedi i nostri casi studio, centinaia di casi studio di successo di libri creati con Bookness, ma per successo cosa intendo? Non è che questi libri hanno venduto milioni di copie oppure hanno vinto il premio strega, ma per successo intendo che questi libri sono riusciti in maniera misurabile, certa, ad aumentare le vendite, l'autorevolezza, a semplificare il marketing dell'autore, ad abbattere i suoi costi di marketing al contorno, questo è il successo, ok? Io dico sempre, i nostri libri non devono vendere milioni di copie, ma devono fare milioni di vendite agli autori imprenditori che li creano insieme a noi, ok? Con il nostro sistema puoi delegare completamente la scrittura a noi e mantenerni il controllo produttivo sempre, ma se vuoi puoi anche scriverlo tu, oppure abbiamo la possibilità di offrire dei servizi di coaching. Il nostro servizio, per andare a spiegarlo un po' più nel dettaglio, funziona meglio, dati alla mano rispetto a qualsiasi altro servizio, prima di tutto perché abbiamo un nostro metodo unico al mondo che si chiama Best Seller Framework ed è un mix di neuroscienze, copywriting, storytelling, viaggio dell'eroe che va a creare libri che prima di tutto sono emozionanti, appassionati e incredibilmente utili, ok? Quindi nel momento in cui ci sono delle conoscenze da trasferire, ecco che queste vengono trasferite in maniera efficace, comprensibile, alla portata del pubblico specifico a cui ci rivolgiamo. Ciò non significa fare dei testi che sono banali, ma significa fare dei testi che sono comprensibili. E questo Best Seller Framework si basa su delle domande specifiche che facciamo all'autore e queste domande seguono un ordine ben specifico che in maniera eticamente persuasiva porta il lettore a compiere poi alla fine della lettura del libro l'azione che l'autore si prefigge, quell'azione che servirà da un punto di vista commerciale a aumentare la leva che il libro esercita sulla propria attività, sul proprio business, ok? Poi dopo il secondo motivo riguarda il fatto che il libro viene pubblicato con self-publishing vincente, cioè con Bookness, da dove viene Bookness? Da self-publishing vincente, servizio di pubblicazione che dal 2015 ci ha consentito di pubblicare 2.000 libri, quindi libri anche che non abbiamo scritto noi, anche libri di romanzi, poesie di grande successo che hanno avuto con l'editoria indipendente. Questa esperienza ci ha consentito di inserire all'interno della pubblicazione delle strategie di ottimizzazione che consentono poi ai libri di ottenere maggiore vendite a parità di marketing, questo è un concetto fondamentale. Queste ottimizzazioni riguardano lo studio analitico della migliore copertina, ad esempio la copertina non è che deve essere la copertina più bella del mondo, no, la copertina deve essere la copertina che funziona meglio per il target specifico a cui ti rivolgi, che sono due cose diverse, la copertina non deve essere un esercizio puramente estetico, ma deve essere un esercizio di marketing vero e proprio, la copertina è l'elemento più importante. Poi gli altri elementi sono i cosiddetti elementi di vendita online che andiamo a ottimizzare e che aumenteranno le vendite a parità di sforzi e che sono la descrizione del libro, la biografia dell'autore, le categorie, le parole chiave, il prezzo e tante altre piccolezze che ne sto qua a dirti che fanno parte un po' anche dei nostri segreti. Ok, quindi self-publishing vincenti, il secondo motivo, il terzo è che noi non creiamo libri fine a se stessi, in realtà Bookness crea strategie, Bookness ecco, crea strategie, il nostro non è un servizio che ti dà un libro, no, ti dà un libro e la strategia per utilizzarlo a meglio e un libro che è perfettamente sinergico e incluso nei processi operativi che la strategia deve far funzionare affinché tu ottenga gli obiettivi che ti sei prefisso prima proprio di iniziarlo a scrivere questo libro. Perché io dico sempre a noi piace fare una cosa, anzi, meglio, mi correggo, io dico al mio team, noi dobbiamo fare una cosa, ossia dobbiamo iniziare a scrivere i libri dalla fine. Che significa? Prima di iniziare a scrivere il libro dobbiamo sapere esattamente qual è l'offerta che l'autore, imprenditore, l'offerta commerciale vuole proporre al lettore del libro dopo che lui ha letto il libro, in maniera tale che il libro è perfettamente così calibrato a fare in modo che il lettore accolga in maniera spontanea alla fine del libro la proposta dell'autore. Ma sta proposta commerciale non è che sarà stampata e scritta dentro il libro, assolutamente no, questo non lo facciamo, il libro dovrà essere evergreen, il libro dovrà essere utile, appassionante indipendentemente da questa proposta commerciale, però alla fine del libro ci sarà una pagina strategica dove faremo inserire i dati al lettore e a questo lettore poi via email, via telefono arriverà questo tipo di proposta, ma questo lettore sarà poi educato e indottrinato dei contenuti del libro e per questo che l'accoglierà in maniera quasi automatica, ma direi meglio in modo naturale. Bene, da questa meravigliosa location vi saluto, sta per passare un aereo, vediamo di inquadrarlo se ci riusciamo, è un elicottero, ok non ci sono riuscito, riproviamoci, riproviamoci, eccolo là giù in fondo un elicottero, con questo finale un po' cinematografico vi saluto, prenotate se vi interessa una call con il nostro staff su bookness.it, vi aspettiamo, ciao e grazie.